Musica Nuovi mezzi di informazione sicuramente Immigrazione e accoglienza La prima, quella sulle professioni Professioni del futuro, sì Secondo me un argomento molto interessante è attualmente l'immigrazione che sta avvenendo in questi tempi quindi sceglierei decisamente l'immigrazione Così a caldo direi social fake news una situazione molto attiva in questo ultimo periodo soprattutto per quanto riguarda la situazione politica è pieno zippo di fake news è anche un argomento divertente da affrontare come prova d'esame Musica Gusti personali, cioè quello che mi piace di più Quello che è più attuale Ma io di solito scelgo in base ad esempio un argomento su cui posso spaziare? Io scelgo più o meno sulle tracce più facili oppure su temi su cui mi sento più pronta I gusti personali? Quello che è attuale e quello che è più facile Liberamente Liberamente No, liberamente No, no, assolutamente liberamente No, no, liberamente Precisamente liberamente Penso sia meglio ora Non ho capito bene come funziona quello nuovo però penso che fosse meglio prima Penso, cioè la nuova modalità è uguale Penso sia indifferente Era molto meglio quello prima della riforma perché è privo di vincoli invece adesso ti costringono magari a formulare un qualcosa che può essere distante da te perché richiedono molti parametri è ingombrante ecco, non ci sta tutto